Lancia un allarme il centro-destra. Lo stato di predissesto del Comune di Pescara produrrà conseguenze economiche che graveranno sui cittadini. 35 milioni di euro produrranno l'aumento del costo dei servizi. Per i prossimi dieci anni tutta l'economia della città sarà disegnata sull'obbligo di risarcire il Ministero del Tesoro. E' per questo che noi ritenevamo questa delibera assolutamente negativa per la città di Pescara e ci siamo opposti fino alla fine. Purtroppo la maggioranza è andata avanti. Era necessario ripensare meglio a questa operazione e cercare di utilizzare altri strumenti che il Governo metteva a disposizione dei Comuni. Perché il problema reale del Comune di Pescara è la mancanza di liquidità dovuta al fatto che i cittadini si sono trovati in difficoltà e non hanno pagato le tasse che sono state messe al massimo dalla Giunta Alessandrini. Spiega Carlo Masci, nel corso dell'approvazione del bilancio abbiamo cercato di garantire alcuni servizi indispensabili per non renderli passibili di aumenti. Si parla di asili, menze e altre utenze che fungono da strumenti sociali per le famiglie. Si rischia che questa operazione del predissesto vada a toccare anche le fasce finora esenti, cioè quelle fino a 16.000 euro di reddito. Ci batteremo perché questo non succeda, per questo abbiamo fatto approvare un ordine del giorno proprio per bloccare sia l'aumento delle rette degli asili nido e delle menze scolastiche sia ovviamente l'ampliamento delle tasse anche ai redditi inferiori a 16.000 euro. Quindi è importante che si intervenga su questo, noi lo faremo e vigileremo anche.